È una scadenza molto breve e soprattutto c'è il problema che la cittadinanza non è stata informata su questa ordinanza. L'ordinanza è del 9 febbraio e prevede che tutti i proprietari di immobili o gli amministratori di condominio o i titolari di società di immobili in cui ci sia presenza di amianto facciano un'autonotifica al comune entro il 10 aprile. Il tempo ormai sta scadendo, da vostri dati, anche da segnalazioni che avete raccolto, c'è ancora chi non è riuscito a provvedere? C'è ancora chi non è a conoscenza di questa ordinanza, infatti noi con l'Associazione della nostra libertà e con il nostro capogruppo al comune, l'Avvocato Antonio Camarota, abbiamo presentato sia una richiesta di proroga al sindaco e sia una raccomandazione nell'ultimo Consiglio Comunale, perché è importante questo censimento dell'amianto. Il problema amianto va affrontato e risolto per la salute pubblica e per la salvaguardia dei cittadini, però messo in questi termini diventa soltanto un'azione sanzionatoria, non dà il tempo né di provvedere né di ottemperare a questa ordinanza.